ciao a tutti amici allora siccome non volevo che voi pensaste che fossi morto cioè da quando sono arrivato in italia cioè sono scomparso completamente faccio questo video veloce per salutarvi tutti cioè non sei neanche notella good domani voglio fare dei video però ciao sono arrivato sono scappato giù a roma come sapete dovevo fermarmi un giorno poi alla fine non ce l'ho fatta c'erano lì che dicevo no vabbè facciamo ancora una giornata sotto i tre giorni stato troppo bene è piaciuta troppo roma torno appena posto quest'estate guardarla con più calma poi sono tornato su otto ore di macchina stanchissimo io sono andato a milano non è cosa da fare sono tornato a casa la sera a montare due video perché comunque ho tre video da montare un video su roma l'ho fatto un sacco di foto di video quindi ho un tutorial da montare tutorial che ho fatto ancora quando ero a jacksonville sui prodotti del 2008 e voglio portare con me cioè no 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 dei prodotti del 2009 che voglio portare con me nel 2010 ovvero i miei prodotti preferiti da ogni tipo cioè da daily phone ps3 assassin's creed 2 insomma tutti solo che ieri sono tornato a casa e volevo cominciare a fare qualcosa e poi molti voi sapranno c'è stato un sacco di neve e sono rimasto bloccato oggi sono tornato a saroni sono morto sono le 7 di sera no sono le 8 di sera ho appena mangiato adesso devo fare le castagne le prime castagne di quest'anno domani domani mattina devo andare a milano sto raccontando un pochino tutti i miei viaggi i miei giri domani mattina vado a milano c'è delle cose da fare poi per me giù torniamo di nuovo a saronno farò un video di roma poi farò un tutorial e montare anche gli altri video pian piano perché molti di voi non lo sanno però fare i video cioè montarli metterli online cioè sono circa 4 ore cioè non è una cosa cortissima anche se un video dura 10 minuti cioè è lunga lunga il procedimento dove farlo no volevo fare questo tutorial quindi almeno un tutorial per finire bene l'anno ho avuto in mente un trucco che mi piaceva un po' di tempo fa quando ero a new york mi ricordavo un trucco di a san sippi 2 c'è una corsa di letto cioè volevo fare quello per finire l'anno quindi domani lo faccio appena torno da milano e spero domani sia riuscire a montare i video di metterlo online che sono proprio cotto cioè nel frattempo oggi ho trattato giusca e mi ha detto cioè sei stanco sì sono stanco perché spero sempre quando torno in Italia salvi un attimo perché le settimane sono devastanti perché mi trovo mille cose da fare guarda chi sei felice di essere qui in Italia amore no è stato sono arrivato anch'io in Italia eeeh ci andiamo a belluna né ci andiamo a trovare la nonna ci andiamo a trovare la nonna ci andiamo a trovare la nonna ma siiii no perché la prima volta io aspetta sto prendendo salva di ferro oddio aiuto ecco qui la prima volta che ciusca e veniva a belluna praticamente mia cognata dopo aver fatto letta una settimana fatta enorme e mia suocera non potrà tenerla come ho fatto l'anno scorso perché deve stare un pochino con mia cognata allora una mia amica sta venendo su a belluna allora andrà a conoscerla nonna vero amore io andrà nonna perché mia mamma ha detto che non la può tenere altri due gatti cioè questo gatto è molto geloso poi ha anche problemi di cuore quindi mia mamma si preoccupa e scopre il cuicino se arriva il tuo gatto eeeh e allora non è contento di vedere questo piccolo gattone siiii no sono bravo io non un po' mica le baletta sono tranquillo basta coccole cibo calduccio ah ma io vedo come i sogli eeeh ci fate che non l'ho visto per due giorni non lo impazzisco quando la vedo basta se no diventa un video e cinque ore non sono morto e sto parchevando al regno dei vivi una cazza mia per il momento è tutto ciao a tutti ciao a tutti